Ritorno al successo per i giallo-blu di Achille Fabi che ottengono i tre punti dopo circa un mese e mezzo neve permettendone. Il primo dei tre round, i sette giorni, il nuovo affetto era meglio su un arduo avversario come il Vallessavio, che stagione aveva bloccato due volte tra Coppa Italia e Campionato, i padroni di casa di quest'oggi sul pari. Il tecnico locale rinuncia in avanti a Stefanelli, che parte dalla panchina a fiducia, offensiva al duo composto da Radici e Baldinini, Farabigolici e di panchina con l'acciaccato Ceccaroni. Vallessavio, regina di Parigi in questo torneo con ben 11, dietro solo Sant'Ermete e Granata rispettivamente ferma 4-13-12. Il nuovo affetto, a parte subito l'attacco sulla destra, Cupi mette un traversone invitante per la corrente Baldinini, che cicca clamorosamente il possibile pallone dell'1-0. L'attaccante crea scompile in area avversaria, appoggia questo pallone per Radici, passaggio per Mammutai, tocco per Amantini, conclusione a dimenticare per l'ex San Marino. Dopo la volta degli attaccanti e dei centocampisti, tocca ai difensori, punizione di Fraboni, colpa di testa di Raffaelli, fuori, bersaglio. I Vallessavio provano a rispondere con una punizione di Krashev, che termina alta, sarà lui nel bene e nel male il protagonista del match, poi capirete il perché. Il nuovo affetto si rivede, rimesso a laterale di Gori, Baldinini aiutato dal tocco involontario di Severi, addovestica il pallone calciando verso lo specchio della porta, Baldazzi in questo caso è providenziale. Dalla bandierina, Fraboni mette al centro, Carambola che favorisce la corrente Raffaelli, pallone in bocca a Baldazzi. Su finire di tempo, Vallessavio in gol, ma l'arbitro annulla per una carica sul portiere Semprini. Squadra negli spogliatoi dopo questo calcio di punizione di Fraboni che si spegne alto. Nella ripresa, Paolo Gori tenta fortuna dalla distanza, Baldazzi alza col tanto che basta la sfera sopra la traversa. Sembra la classica domenica no per il nuovo affetto, quando da un liscio dalla difesa ospite, Cupi non mostra il solito acuto, pallone tra le braccia di Baldazzi. Stefanelli appena entrato cerca di sfondare a suo modo, conclusione trattenuta in due tempi da Baldazzi. Nuova Ferti a chi opta per la semplicità, vedessi seguente azione, lancio di fattori, stop di Gori, alza il mento, pallone al centro per la testa di Baldinini, Baldazzi c'è. Sul versante opposto, la quasi beffa del Vallessavio, punizione di Giordani, risponde a cercare l'inserimento di Rossini che dimostra di avere campo visivo dal puro difensore qual è, murato dai colleghi difensori. Alto attraversone al centro di Cupi, Baldazzi non perfetto in uscita, chiude tempestivamente su Stefanelli che poi commette fallo proprio su di lui. Ma il nazionale sanmarinese conquista la punizione dei tre punti. Calcio piazzato affidato a Rinaldi, volontario a deviazione vincente del centrale difensivo Krastev per l'1-0 finale. Il replay ci mostra la netta deviazione del numero 5 in maglia giallonera. Il Nuova Fertia, come col Morciano, rischia di complicarsi la vita al minuto 87. Melli apre per fabbrica, al volo mette al centro un traversone pericolosissimo su quale Balestra non può intervenire e su questa azione scatta la felicità del Nuova Fertia. Tre punti importantissimi in una domenica dove perdono le principali antagoniste. Prestazione da capolista contro una signora squadra chiamata Vallessavio e riscattata la prestazione opaca di una settimana prima col Verucchio. Mercoledì inottuna il recupero al comunale Collo Junior San Clemente.